Altri sette nuovi casi positivi nel comune di Castellabate a comunicarlo il sindaco facente funzioni Luisa Maiuri. I sette cittadini positivi fanno riferimento a contatti di casi precedenti. Tutti erano già in isolamento, ci tiene a precisare la Maiuri. Registriamo nel contempo la negativizzazione di un nostro concittadino. Il totale attuale nel comune cilentano è di 81 persone positive al covid e 48 cittadini guariti. Inoltre il sindaco ha precisato che ha inviato al prefetto di Salerno una richiesta di potenziamento delle forze dell'ordine per rafforzare i controlli sul territorio comunale. Vi informo inoltre, sottolinea Maiuri, come anticipato nella diretta Facebook, che attivo lo sportello assistenza domiciliare presso l'ufficio delle politiche sociali del comune per tutte le persone in isolamento che necessitano di consegna a domicilio di medicinali e di generi di prima necessità. Basterà chiamare il numero 0974 96 01 47 il martedì e il giovedì dalle ore 9 alle ore 12 e 30 il servizio sarà effettuato dalla protezione civile e dalla croce rossa italiana.